Buonasera, buonasera e buon anno. Anno nuovo, il gioco viene facile, nuova produzione, nuovissima. La Turandò di Puccini che apre il 2018 del Teatro Regio è una nuova produzione ed è nuova sotto diversi punti di vista. Non solo perché l'allestimento è nuovo, è una realizzazione del Teatro Regio, porta la firma di Stefano Poda, artista che firma come sempre regia, scene, costumi e coreografia dei suoi spettacoli che sono figli di una inventiva, di un'immaginazione che lui cura in tutti i dettagli. È nuova perché il nostro direttore musicale, Gianandrea Noseda, affronta per la prima volta questa che è l'ultima opera di Puccini ed è nuova perché per la prima volta, voi sapete che Turandot è un'opera incompiuta, è lasciata incompiuta alla morte di Puccini, ebbene, anziché eseguire come spesso si fa il finale che venne approntato da Alfano, l'opera terminerà dove l'ha lasciata Puccini. È una scelta controcorrente, se vogliamo, insolita, ma che ha delle fondatezze musicali, artistiche e quant'altro. Aspetti in cui Enrico Girardi, che ringrazio di essere tornato ai nostri microfoni, critico del Corriere della Sera e docente dell'Università Cattolica di Milano, sicuramente tratterà nell'incontro di oggi. Dico sicuramente perché ho avuto il piacere di poter pubblicare un suo scritto proprio sulla questione dei vari finali che negli anni sono emersi o sono stati scritti per quest'opera, che non è l'unico grande capolavoro che pone questo problema dell'incompiutezza, che è un indefinito, che diventa poi un'infinità di prospettive e di aperture. Quindi le premesse sono di una cosa molto interessante. A livello di possibilità di fruire questo spettacolo, vi segnalo, vi ricordo, che è il nuovo titolo che il Teatro Reggio dedica al progetto europeo, che prima si chiamava di Opera Platform e che adesso si chiama Opera Vision, per cui la registrazione dello spettacolo sarà visibile dal 25 gennaio per sei mesi gratuitamente e poi verrà realizzato anche un DVD. Quindi è una produzione in cui il teatro crede molto e che avrà lunga vita e ci auguriamo anche felice. Quindi godiamoci Enrico Girardi e gli passo la parola. Grazie. Grazie a te. Grazie e buonasera a tutti. Ha già detto Simone ciò di cui ci dobbiamo occupare. Naturalmente parlare del problema del finale presuppone anche che si dicano alcune parole su tutto ciò che c'è prima del finale, perché è lì che si creano quei nodi che sono una delle cause dell'incompiutezza di Turandot, che è insieme con la Lulu di Berghe e con il Moses und Aaron di Schoenberg, fa parte di questo gruppo dei tre capolavori incompiuti del teatro musicale del Novecento. Curioso però è il fatto che la ragione di questa incompiutezza è diversa caso per caso. Nel caso della Lulu di Berghe è la ragione più semplice che si possa immaginare, cioè il semplice fatto che l'autore a lui morì senza avere il tempo di completarla, lasciando quindi non composto, se non per alcuni abbozzi, il terzo atto. Il caso di Schoenberg e del suo Moses und Aaron è invece un caso interessantissimo ma di tutt'altra natura. Schoenberg sopravvisse alla composizione di Moses und Aaron per lungo tempo. Quella di lasciarla incompiuta fu una scelta perché il problema che si metteva in luce in quell'opera era un problema insolubile, che poi è il problema che anima l'opera stessa e che viene rivelato già dal titolo, che è quello del conflitto tra il verbo e la parola che è rappresentato dai due personaggi principali di Mosè e di Aaron. Il caso di Turandot e di Puccini è un caso molto diverso. Certamente noi non sapremmo mai se Puccini sarebbe venuto a capo dei rovelli che aveva e che gli impedirono di completare il suo lavoro. Fatto sta che noi sappiamo che Puccini era abituato fin da giovane a bozzare le sue opere, i suoi lavori, a dare poi la composizione vera e propria che solitamente faceva su tre o quattro righi e una volta completato la composizione di un'opera si metteva all'opera, scusate il gioco di parole, per l'orchestrazione che era l'ultima tappa quindi di questo processo creativo. Nel caso di Turandot invece la composizione arriva tutto il primo atto, tutto il secondo, la prima metà del terzo e a quel punto la composizione si ferma e Puccini ha dei dubbi su come concludere l'opera e la ragione di questi dubbi è l'argomento del principale argomento direi del nostro incontro di oggi. Nel frattempo, nel mentre che si arrovella su come potrebbe essere la giusta soluzione per il finale, si porta comunque avanti col lavoro e orchestra il primo atto, il secondo e la prima metà del terzo, che non sarà poi mai completato. Quindi la morte è soltanto una delle cause. Puccini probabilmente avrebbe avuto il tempo magari non di orchestrare tutta l'opera ma di comporla, se fosse rimasto i suoi soliti, ripeto, processi compositivi, di comporla, il tempo l'avrebbe avuto e come. Ma facciamo prima un salto indietro, voglio prima ricordare delle date che sono importanti, che sono un quadro cronologico che è quello dentro il quale ci muoviamo. La data di nascita di tutto è il 1761, quando Carlo Gozzi pubblica la Turandot, che è la pubblica come fiaba teatrale. Fa parte, insieme con altri lavori, tra cui le treme l'arance, il recervo, la zobeide, e l'augellino belverde, appunto di un gruppo di fiabe teatrali. La Turandot in particolare è sottotitolata Fiaba cinese teatrale tragicomica. Ripeto, siamo nel 1761. Non stiamo a soffermarci su Gozzi e sul suo tipo di drammaturgia, così radicalmente opposto e lontano rispetto a quello del suo più illustre concittadino, Carlo Goldoni. È una drammaturgia nel quale l'elemento del fantastico ha molta importanza, ha molto peso. Non a caso parliamo di una fiaba teatrale. Non è un caso che i più solleciti, i più attenti al testo di Gozzi siano i tedeschi. Già nel 1777, quindi 15-16 anni dopo la pubblicazione del testo di Gozzi, compare una tradizione in tedesco di Vertes e nel 1801 un drammaturgo ben noto come Friedrich Schiller fa a sua volta una Turandot che non è tanto o solo traduzione del testo originario di Gozzi, ma è una vera e propria riscrittura. Certamente questo dimostra l'interesse della cultura tedesca nei confronti dei temi fantastici che abitano nelle fiabe teatrali di Gozzi. La cosa curiosa è che Turandot torna nella vita culturale italiana quando nel 1863 Andrea Maffei fa una versione italiana della Turandot di Schiller. Sappiamo quanto fossero attenti i letterati italiani a tutto quello che si pubblicava oltre Alpe. e Schiller quante volte compare, pensiamo, nella cultura anche operistica dell'Ottocento. Maffei fa una versione italiana, diciamo, della Turandot di Schiller. Quindi torna dopo questo ponte in Germania, la Turandot torna in Italia. E quattro anni dopo un compositore importante della vita musicale italiana di quegli anni, che è Antonio Vazzini, bresciano, si farà preparare da un suo collaboratore piuttosto ignoto, che si chiama Antonio Fazzoletti, un libretto per un'opera che andrà in scena alla scala e che si intitola Turanda, appunto. Non è ispirata alla Turandot di Gozzi, ma è ispirata alla Turandot di Maffei, ripeto, versione italiana di quella di Schiller. L'opera non ha un gran successo, però è importante anche per noi, perché sappiamo che anni dopo, nel 67, Puccini ha nove anni. Ma più avanti, nel 1880, va a Milano e viene ammesso al Conservatorio di Milano e avrà per poco tempo proprio Bazzini come suo maestro di composizione. Bazzini, noto anche più per la musica strumentale, era anche un grande violinista, ha scritto tante pagine importanti, soprattutto nell'ambito strumentale. Forse era meno ispirato sul fronte teatrale, Turanda è la sua unica, prima e ultima esperienza operistica. Però certamente è difficile immaginare che Puccini non fosse a conoscenza che il suo maestro di composizione aveva scritto un'opera per la scala, che era stata rappresentata dalla scala, appunto, ispirata al tema di Turandot. Poi lo sarà per poco tempo, perché Bazzini di lì a breve diventerà direttore del Conservatorio di Milano e quindi lascerà la classe di composizione frequentata dal giovane Puccini. Un interesse, invece, per la Turandot originaria, cioè quella di Gozzi, ritorna, e ritorna piuttosto prepotente, nel Novecento. Innanzitutto il primo che si attiva in questo senso è Ferruccio Busoni. Forse non è un caso, perché è sempre un compositore un po' al confine tra cultura italiana e cultura tedesca. Fatto sta che nel 1911 scrive delle musiche di scena per la Turandot di Gozzi e poi decide, sei anni dopo, nel 1917, di scrivere un'opera che è da Turandot, appunto, sottotitolata Fiaba musicale cinese. La prima rappresentazione di quest'opera è all'Open House di Zurigo. È l'inizio di un interesse dei compositori d'opera del Novecento nei confronti del teatro di Gozzi, che poi è testimoniato dal celeberrimo amore delle tre mele arance di Prokofiev, che andrà in scena a Chicago nel 1921, per l'opera che voi tutti conoscete a menadito, perché è stata rappresentata non molto tempo fa qui a Reggio, che è La Donna Serpente, di Alfredo Casella, opera che aveva debuttato nel 1932, e senza dimenticare il König Hirsch, cioè il re Cervo, scritto da Hans Werner Hense, e rappresentato a Berlino per la prima volta nel 1956. Tre anni dopo il debutto dell'opera di Busoni, che è un'opera che sarebbe veramente, a parte che è molto bella, non è un capolavoro, diciamo la verità, ma è un'opera molto interessante, anche perché è molto legata a Gozzi e a quel tipo di teatro in cui la maschera ha un certo importanza, in cui appunto più che il personaggio del melodramma abbiamo di fronte appunto la maschera, a volte spesso grottesca, di quel tipo di teatro che nel Novecento torna a essere così di moda. Ma tre anni dopo, in ogni caso, il debutto dell'opera di Busoni, Adami, che è uno dei due librettisti della Turandot, suggerisce a Puccini il soggetto, e Puccini che sappiamo ha impiegato nella sua vita artistica forse più tempo a decidere quale fosse il libretto adatto per la sua nuova tappa operistica, quasi che non a scrivere poi le opere stesse. Era meticoloso, puntiglioso, doveva essere soddisfatto, convinto fino al midollo di ogni soggetto. E in questo caso accetta subito, accetta senza resistenza. E gli piace molto l'idea di fare un'opera incentrata su una figura così diversa da tutta quella lunga galleria di figure femminili che erano state personaggi principali di tutte le sue opere precedenti, da Manon fino a Sor Angelica. E si infiamma anche per questo soggetto e comincia anche a pensare a un tipo di... essendo un personaggio femminile completamente diverso da tutti gli altri, comincia anche a immaginare anche un tipo di vocalità adatta a questo personaggio, una vocalità che spinga molto sui toni declamati, anziché su quel registro lirico che è quello tipico delle tragiche eroine pucciniane. Sappiamo poi che... Quindi nel 1921 Puccini inizia a comporre l'opera. La malattia, il cancro alla gola, questo tentativo disperato, perché pare che a Bruxelles ci sia un luminare che forse potrebbe risolvere il problema. Insomma, il 29 novembre 1924 Puccini muore lasciando sul comodino dell'ospedale di Bruxelles dove è stato operato pochi giorni prima 22 fogli per un totale di 36 pagine di schizzi, di abbozzi relativamente alla parte che aveva lasciato in compiuta, come si diceva prima. Proseguo e concludo con queste date che sono la cronologia dentro la quale ci muoviamo. Il 25 aprile del 1926, quindi un anno e mezzo dopo la morte di Puccini, l'opera va in scena alla Scala, diretta da Toscanini. È la famosa sera in cui Toscanini è arrivato al punto della morte di Liù e della immediatamente successiva ternodia funebre che inizia con Timur e finisce con un intervento corale, con quell'accordo di mi bemolle minore nell'acuto. Toscanini si ferma e annuncia al pubblico che qui è morto Puccini e quindi l'opera debutta nella stessa forma che sarà rappresentata qui al regio martedì prossimo, cioè fin dove Puccini l'ha composta interamente. A partire invece dal 27 aprile, quindi due giorni dopo la seconda recita, Turandot torna in scena, non più diretta da Toscanini, ma diretta da Ettore Panizza, che in quegli anni era assistente di Toscanini, e va in scena con il finale preparato da Alfano, almeno così che nel frattempo, in quell'anno e mezzo, aveva composto Alfano. Almeno così crede il pubblico e lo crederà per tanto tempo, perché in realtà quel finale di Alfano che consta di 377 battute verrà tagliato da Toscanini, era stato tagliato da Toscanini, di 109, quindi di una parte decisamente consistente della partitura scritta ad hoc da Franco Alfano. La cosa non si sa nemmeno e per un contratto capestro che Alfano aveva firmato con Casa Ricordi, nel momento in cui Ricordi gli aveva affidato l'incarico del completamento dell'opera, è interessante, adesso non ci soffermiamo più che tanto, è molto interessante questo aspetto perché noi oggi ci riempiamo la bocca con il marketing, ma Ricordi fa nei confronti di Turandotto un'operazione di marketing incredibile, vuole lasciare credere più che si può al pubblico che in realtà l'opera è rimasta incompiuta di qualche piccolo dettaglio, sì mancava un po' dell'orchestrazione, ma insomma non dice mai chiaramente come stavano le cose e a tal punto è attenta a questa da costringere Alfano a sottoscrivere nel contratto una clausola che prevede che lui non darà alcuna dichiarazione relativamente al lavoro che era stato incaricato di fare. La reazione di Alfano, ignaro lui per primo di questo che ai suoi occhi era uno scempio, cioè il taglio di un quarto della sua musica, l'unico modo in cui può reagire è di rompere i ponti con Casa Ricordi e di trasferirsi, armi e bagagli, per quanto riguarda la sua casa editoriale, a Vienna con Universal che è un importantissimo editore di Schoenberg, di Werck, di Weber, di tanta musica di area tedesca di quegli anni. Del finale realizzato da Alfano, del vero finale di Alfano, quindi quello non tagliato da Toscanini, si comincia a venire a conoscenza quando finalmente Casa Ricordi apre il proprio archivio, dove la partitura alfaniana era stata naturalmente archiviata, ai musicologi. Nel 1979, finalmente, alcuni musicologi hanno accesso alla vera partitura di Alfano. Si scopre come erano andate le cose e nel 1982, il vero finale di Alfano viene eseguito per la prima volta alla Barbican Hall di Londra in forma di concerto. Nell'agosto dell'83 va in scena, in forma scenica, alla New York City Opera. Quindi, dopodiché comincia, seppure pallidamente, in una proporzione che è imparagonabile rispetto a quella che ormai tutti considerano la Turandot, cioè quella col finale d'Alfano tagliato da Toscanini, comunque l'opera comincia, pur blandamente, a circolare anche col finale autentico di Alfano. L'ultimo step di questa cronologia riguarda gli anni più recenti, perché nel 2001, sempre l'editore, naturalmente le mali lingue dicono per ragioni di diritti che sono ormai prossimi alla scadenza, commissiona al più importante compositore italiano vivente, ai noi e non più oggi, cioè a Luciano Berio, un nuovo finale. Berio lo scrive, il suo lavoro viene eseguito anche in questo caso prima soltanto in forma di concerto alla Spalmas nel gennaio del 2002, in un concerto che l'Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam dava in turni nella città appunto delle isole atlantiche, diretta da Shai, una esecuzione alla quale io ebbi modo di assistere, seguendo anche le prove, esperienza anche molto interessante, se posso aprire una parentesi personale, ebbi modo anche di discutere con Luciano Berio di alcune cose, ho la partitura di quella esecuzione, che in realtà non è già più la partitura ufficiale, perché dopo quell'esecuzione Berio fece non pochi ritocchi, soprattutto sulla parte percussiva, che era molto preponderante nella sua orchestrazione, e quindi quella che è pubblicata oggi, sempre da Casa Ricordi, non è quella che fu eseguita quella prima volta nel gennaio del 2002. sempre nel 2002 chiesi, armato della mia partitura, chiesi a Berio se mi avrebbe usato la gentilezza di farmi un autografo e lui con l'ironia che era tipica del suo modo di essere, del suo modo di fare, scrisse, tra virgolette, puntini, 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 Giacomo Puccini, puntini, 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 virgolette, a dire quanto il suo lavoro fosse un lavoro in qualche modo di riscrittura, ma poi di questo, su questo ci torniamo. In forma scenica, la Turandot col finale di Berio debutterà nel maggio del 2002 a Los Angeles diretta da Nagano con la regia di Del Monaco, poco dopo ad Amsterdam diretta da Shaikh con la regia di Lenhoff, nell'agosto del 2002 a Salisburgo diretta da Gerghi con la regia di Pountney, una rappresentazione di cui è testimonianza nel DVD che uscì poco dopo e di cui poi vedremo un piccolo stralcio e poi dopo ha cominciato il suo percorso, Berlino, tante altre città, nel novembre del 2003 debutta finalmente anche in Italia al Carlo Felice di Genova che essendo teatro della regione di Berio era il più sollecito, è stato il più sollecito in questo, alla scala dove era anche giusto che quest'opera venisse rappresentata, bisogna invece aspettare il maggio del 2015 quando va in scena diretta da Shaikh con quella regia di Lenhoff che era già stata presentata anni e anni prima ad Amsterdam. Nel frattempo a Lucca, altro città, altro teatro interessato in modo particolare all'attività pucciniana, è andato in scena per la prima volta in Italia il vero finale di Alfano che poi è stato eseguito anche a Cagliari e anche a Palermo mentre invece sempre per parlare di anni recenti a Vari nel 2009 e a Venezia nel 2007 è cominciata anche questa diciamo tradizione di rappresentare l'opera come sarà rappresentata qui a Reggio soltanto con il finale cioè senza finale così come Puccini l'aveva lasciata. qual era il problema che mise in crisi diciamo così un drammaturgo super attento a ogni minimo dettaglio dei propri libretti che sappiamo quanto fosse maniacale nel chiedere ottenere dai propri collaboratori tutte le minime varianti necessarie perché i conti tornassero perfettamente come Puccini si blocca di fronte a questo finale il problema credo derivi da un fatto oggettivo e il fatto oggettivo è che Puccini non aveva avuto alcun dubbio se era anzi appassionato immediatamente all'idea di mettere in scena il soggetto di Durandot e allo stesso tempo è perfettamente consapevole del fatto che è un soggetto completamente diverso rispetto a tutti quelli che ha musicato fino a quel momento per via della natura fiabesca del lavoro una natura fiabesca che da un lato lo affascina percepisce quanto è moderno e quanto è quanto sia una corda quella del fiabesco che non ha ancora sperimentato e che può rappresentare un nuovo traguardo in quella parte della sua vita non dimentichiamo l'era iniziata con la fanciulla del West nel 1910 in cui ogni titolo aveva recato con sé qualche cosa di nuovo qualche cosa di sperimentale rispetto ai grandi trionfi degli anni precedenti fino a butterfly per intendersi questo però non e quindi lo affascina anche l'idea del fiabesco però nel trasportare nel tradurre diciamo librettisticamente la fiaba teatrale di Gozzi in un libretto in un libretto d'opera introduce degli elementi che confliggono con l'idea stessa di fiaba e perché vanno nella direzione contraria che è quella nella direzione cioè della tradizione melodrammatica è molto interessante per chi avesse la voglia e la pazienza di confrontare la turandotte di Gozzi con quella con il libretto dell'opera di Puccini fare mettere sulla bilancia tutte le cose che sono rimaste fiabesche e mettere dall'altra parte tutte le cose che invece fiabesche non sono più e sono state volte in una forma melodrammatica e in questa occasione credo sia basti fare qualche piccolo esempio che cosa resta fiabesco innanzitutto già nel frontespizio della partitura c'è scritto a Pechino ai tempi delle fiabe c'è un hic ma non c'è un nunc al tempo delle fiabe quindi in un tempo mitico in un tempo fantastico e questo resta ma fiabesco resta anche il presupposto le prime battute quelle con cui si apre l'opera in cui viene esposta e ricordata la legge la legge per cui la legge è questa chi di turandotte la sposa sarà chi di sanguereggio sciolga gli enigmi tra l'altro fateci caso nel caso di Puccini anche contraddittorio perché la legge dice di chi di sanguereggio sciolga gli enigmi e nessuno sa che sia calaf e quindi non sanno neanche se sia di sanguereggio quindi se fosse titolato per candidarsi diciamo al rituale degli enigmi in ogni caso una legge del genere per carità tutto è possibile tra un po' magari ci troveremo qualcosa del genere anche nel nostro paese però una legge del genere soltanto in un impero fiabesco può avere cittadinanza non in un regno in un impero in uno stato o quel che sia reale così come è del tutto fiabesco la scena che dà vita al secondo atto dell'opera che è quella del rituale degli enigmi sarebbe tragicomico se esistesse un rituale del genere in un paese vero in un mondo fiabesco può essere che diventa marito della principessa dell'impero cinese chi sia stato capace di sciogliere tre enigmi va bene non solo c'è anche un lieto fine diciamo così almeno quello prevedono il libretto di Adam e Simoni questo non è fiabesco in sé ma certamente nella narratologia fiabesca è necessario che la fiaba abbia una conclusione che sia tragica che sia lieta è importante che ci sia perché è quella che dà una morale alla storia e la morale è nel 90% dei casi la ragione di essere stessa della narratologia fiabesca questi sono alcuni aspetti che restano fiabeschi ma ce ne sono altri che invece diventano melodrammatici e sono tanti mi limito sono tanti anche perché come sempre quando un lavoro teatrale un testo teatrale diventa libretto d'opera subisce diciamo così istituzionalmente una serie di cambiamenti necessari per la semplice ragione che la parola cantata è molto più lunga occupa più tempo della parola recitata se io stessi cantando quello che vi sto dicendo sarei ancora alla prima delle date che avevo elencato prima naturalmente questo significa una radicale semplificazione del libretto questo significa una radicale taglio di gran parte dei personaggi che sono presenti nel lavoro di Gozzi questo significa anche la trasformazione delle maschere che Gozzi aveva introdotto in questa fiaba teatrale pantalone brighella trifaldino eccetera con i tre famigerati ministri ping pong pong che sono sempre cause di tanti turbamenti per i direttori e soprattutto per i registi che non sanno mai cosa fare in quel benedetto primo quadro del secondo atto che è tutto occupato da loro e che anche Berio non ha mai nascosto di detestare cordialmente ma perché questa trasformazione perché il linguaggio la fiaba teatrale di Gozzi si rivolgeva a un pubblico anche popolare ma aveva un linguaggio aulico un italiano aulico un italiano bellissimo peraltro che aveva bisogno di traduzione le maschere commentavano ironicamente in modo grottesco e comico di lì il tragicomico che c'è nel sottotitolo dell'opera di Gozzi quanto accadeva ma allo stesso tempo commentandolo lo spiegavano in dialetto veneziano al pubblico la presenza di queste figure naturalmente non è necessaria in un lavoro operistico e quindi avviene la trasformazione delle maschere della Comunità dell'Arte nei tre ministri famigerati ma questi sono cambiamenti che sono inerenti al fatto della trasformazione di un libretto teatrale in un libretto operistico altri invece sono vanno al di là diciamo di queste motivazioni per così dire istituzionali sono scelte vere e proprie sono scelte importanti mi soffermo su tre aspetti uno se vogliamo è marginale ma fino a un certo punto i tre enigmi ne sappiamo nella Turandot le risposte giuste diciamo agli enigmi sono la speranza il sangue Turandot cioè tre parole che sono intimamente connesse con l'azione stessa c'entrano con l'azione la speranza di Calaf il sangue versato da tutti i precedenti i pretendenti Turandot ma nel melodramma ogni dettaglio deve essere legato al tutto non può è una regola della narratologia anche questa invece nel libretto di Gozzi non c'entrano direttamente con l'azione erano il sole se avessimo tempo vi farei adesso gli enigmi solo che poi bisognerebbe prevedere un premio per chi azzecca in ogni caso il sole l'anno e il leon dell'adria chiaro maggio a Venezia che anche nell'impero cinese è conosciuta come la grande come la serenissima è un dettaglio però abbastanza significativo ben più importante è il fatto che Turandot spieghi nell'opera la ragione per cui è la principessa di ghiaccio nelle fiabe dove c'è la fata buona o la strega cattiva o il mago che può essere buono o cattivo secondo dei casi interessa dal punto di vista dell'intreccio dell'intrigo dell'azione ma non c'è la necessità diciamo così di andare a fondo di quel modo di essere della personale cioè non c'è il tratto psicologico che invece è fondante e centrale nel personaggio melodrammatico Puccini e i suoi librettisti si sentono in dovere di dare un perché a questo modo d'essere di Turandot che poi i registi odierni possono interpretare come perché è frigida perché è lesbica perché loro inventano questo in Gozzi non c'è la storia dell'Ava che era stata stuprata e poi uccisa e quindi il desiderio in qualche modo di vendicare e questo peraltro questo dettaglio è centrale è il contenuto principale dell'unico vero a solo previsto per il personaggio principale dell'opera per Turandot nel suo secondo atto di che cosa parla lei se non di questa cosa e quindi non è una cosa secondaria è un aspetto molto importante il fatto che nelle fiabe non ci sia la necessità di sapere perché quello è buono perché quello è cattivo perché quello è freddo perché quello è caldo non significa che poi non ci debba essere anche lì una motivazione quello che cambia è l'importanza è il peso di quella motivazione nell'economia drammatica del lavoro e comunque anche la Turandot di Gozzi ne ha uno è molto semplice lo dice parlando con Calaf principe prima quando cerca di farlo desistere dall'idea di cimentarsi nel rituale degli enigmi dice principe desistete dall'impresa fatale al cielo è noto che quelle voci che crudel mi fanno sono menzognere abborrimento estremo co al sesso vostro fa che io mi difenda come io so come io posso a viver lungi da un sesso che abborrisco e più avanti dopo che lui invece ha risposto alle domande una schiava di Turandot dice ma insomma perché continua ad essere così è un bell'uomo ha dimostrato coraggio eroismo e lei dice non dir più oltre sappi che questo core io l'odio a morte io so che tutti i perfidi gli uomini son che non ha ancora sincero né capace d'amor fingono amore per ingannar fanciulle appena giunti a possederle non più sol non le amano ma il sacro nodo marital sprezzando passano di donna in donna né vergogna gli prende a dare il core alle più vili femminette del volgo alle più lorde schiave alle meretrici è curioso anche quello che replica la schiava perché dice eh mia signora è l'età vostra fresca che alterigia vi desta in cor verrà l'età infelice che concorrenti mancheranno e allora vi pentirete in vain che mai perdete qual fanatica gloria e qual onore se qualcuno fosse incuriosito dal leggere la Turandot di Gozzi riterrei la mia presenza qui utile a qualche cosa perché è veramente molto bello il terzo aspetto è il più importante di tutti è che questa schiava a cui ho appena fatto riferimento così come un'altra che si chiama Zelima così come un'altra che si chiama Adelma che ha un peso importante nell'azione di Gozzi sono che sono tutte e due di famiglia nobile e reale ma di tartare e quindi sconfitte dai cinesi e quindi divenute schiave e sono le schiave di Turandot l'una insiste perché Turandot si sgeli e ceda alle proferte amorose di Calaf l'altra invece è innamorata a sua volta di Calaf di cui è connazionale perché Calaf è tartaro e dicevo ha un ruolo importante proprio nell'intreccio perché quando lui poi ha risolto gli enigmi però non vuole avere Turandot perché ha risposto in maniera giusta ma perché vuole amarla che è esserne ricambiato da un nuovo saggio di forza d'eroismo d'amore nei suoi confronti la sua volta rivolge l'enigma a lei relativamente al suo nome ma in quel caso l'imperatore accetta l'imperatore che non vede l'ora che la figlia si sposi finalmente perché dall'inizio in tutto il primo atto c'è una lunga scena un lungo dialogo tra lei e il padre proprio sul perché di questa insistenza di Turandot non volesse sposare è l'unica figlia e quindi soltanto in lei è fidato al destino dell'impero è un dialogo anche quello interessante perché anche lei dice molto chiaramente che nel momento in cui fosse sposata perderebbe tutto il potere che invece adesso ha in mano sua in quanto figlia unica dell'imperatore ma l'imperatore diceva bene se Turandot scioglierà questo enigma il matrimonio non sarà necessario per legge però Calaf non verrà Calaf non verrà tagliata la testa ma sarà libero di andare libero fuori dai confini dell'impero e a quel punto Adelma interviene lei intravede la possibilità per se stessa fa in modo di sapere dal suo connessionale il nome lo riferisce a Turandot Turandot lo dice a quel punto lei pensa che ci sia strada libera per andarsene via dalla Cina insieme con l'amato Calaf poi le cose non vanno in questo modo ma in ogni caso queste due figure così importanti nella Turandot di Gozi sono sostituite no sostituite non è corretto viene la tentazione di dire sostituite perché anche Adelma ama Calaf però insomma spariscono queste due e appare invece una figura di cui in Gozi non esiste nemmeno l'ombra che è quella di Liu figura centrale e così importante è certamente figura che rappresenta e credo che su questo non possa esserci il minimo dubbio l'ultimo anello di quella lunga catena di tragiche eroine femminili che sono proprie del teatro musicale di Puccini è evidente qual è il problema di Puccini il problema di Puccini che nel momento in cui l'idea originaria è quella che il sacrificio di Liu la morte di Liu provochi lo sgelamento e di lì il bacio però il conflitto si viene a creare nel momento in cui muore Liu trenodia funebre duetto d'amore bacio sgelamento trionfo è tutto così meccanico è tutto così come se il sacrificio di Liu fosse un aspetto quasi secondario ed è anche chiaro però che nel momento stesso in cui vi è più in luce l'importanza e la centralità della figura di Liu vi è più per inverso sbiadisce quella di Turandot se invece si mette tutta la centralità sul tema di Turandot sarà il contrario nel caso di Liu il conflitto è il conflitto della centralità dal punto di vista proprio drammatico di queste due così antitetiche figure femminili una comune proprio a tutta la tradizione melodrammatica del teatro puciniano l'altra così nuova l'altra per la quale Puccini aveva anche pensato e scritto realizzato un tipo di vocalità che certo non si può paragonare a quella dei suoi precedenti personaggi femminili ma se proprio dobbiamo pensare a un personaggio che possa essere in qualche modo accostato non so pensiamo all'Electra di Strauss dice bene questo aspetto molto bene Guido Paduano che è un studioso attentissimo in tutte le dinamiche legate al teatro dice anche questa cosa l'amore che tutto dona caratteristicamente dona anche ciò che non è suo la rivelazione del segreto di Calaf vanifica a posteriori la difesa eroica che ne aveva fatto Liu lei non dice il nome credo sia questo e non tanto la presunta indifferenza di Calaf per la morte della schiava a indurre nello spettatore una sensazione di disagio spesso trascritta come mancanza di coesione tra due diverse linee tematica dell'opera e fallimento del progetto puciniano di creare attraverso la morte di Liu i prodromi dello sgelamento di Durandot fatto sta che di fronte a questo dubbio Puccini come dicevamo prima interrompe la composizione si porta avanti con l'orchestrazione di quello che aveva già fatto e comincia a bozzare lascia come dicevamo prima sul comodino dell'ospedale di Bruxelles 36 pagine di appunti di cui adesso vediamo ecco alcune sono pagine in cui c'è una certa si capisce qualche cosa tra le varie cancellature altre sono per esempio questa qualche cosa di questo materiale è comprensibile questa per esempio è un'altra pagina in cui credo che da salvare c'è praticamente niente qui si salvano le ultime due battute questa è un'altra pagina di cui buona ne resta una battuta sola e questa è forse la pagina più famosa di questi schizzi puciniani perché quella in cui dopo una serie di battute che sono meravigliosamente chiare scritte su tre righi c'è questa annotazione di puccini poi tristano questo è uno degli argomenti di chi ritiene che l'idea di puccini non fosse quella di un finale trionfale festoso muore duetto bacio sgelamento trionfo ma l'idea appunto di una sorta di trasfigurazione ci viene da pensare a quella al finale di tristano poi tristano di isolde che si unisce eternamente a lui nella morte ma che appunto è una morte gioiosa gioiosa non nel senso baldanzosa e festante è una morte gioiosa perché è l'unione assoluta è il compimento di quella sete di assoluto che aveva legato i due fin dal primo sguardo di tanto tempo prima è appunto una morte trasfigurazione no? e peraltro oltre a questa significativa importante annotazione per carità uno potrebbe dire e non abbiamo nessuna controprova in nessun senso che puccini avesse scritto lì poi tristano come dire poi devo ricordarmi di andare a vedere non so un dettaglio di quella partitura che sappiamo comunque essere stata studiatissima e citatissima da tanti autori non solo italiani di quell'epoca ci sono anche delle testimonianze orali perché prima di andare a Bruxelles per questo intervento Puccini a Torre del Lago sono di fronte al figlio Tonio di fronte a un amico e al figlio di questo amico quindi a questi tre testimoni suonò quello che disse loro sarebbe dovuto essere la parte conclusiva della sua opera e tutti e tre recano testimonianza del fatto che non era un finale che non aveva nulla di trionfale nulla di festoso anzi era un finale che andava nella direzione quasi di una sorta di dissolvenza fatto sta che Puccini era il più grande più amato più popolare compositore dell'epoca e per casa ricordi il debutto di Turandotte era molto più importante di qualunque tipo di di dubbio di questione relativamente a come sarebbe dovuto essere il finale il problema di casa ricordi d'accordo con gli eredi e in primis il figlio Tonio è quello di individuare di completare questa partitura e di lasciare credere al pubblico che in realtà appunto Puccini l'avesse lasciato in compiuta solo per qualche dettaglio e di lì l'idea dei due gerenti di casa ricordi di Toscanini che come sempre aveva voce in capitolo sulle faccende che riguardavano i compositori italiani e di casa ricordi e il figlio Tonio individuano in Alfano il compositore più adatto per questo lavoro e ciò avviene perché innanzitutto è già un compositore di casa ricordi quindi è un compositore di casa in secondo luogo ha già dimostrato rappresentando la leggenda di Sacuntola a Bologna nel 1921 ha già dato modo di dimostrare una notevole qualità nel saper orchestrare nel saper scrivere e orchestrare una musica esotica perché quell'opera ambientata in India di esotismo ce n'è parecchio in realtà Alfano è recalcitrante ha altri impegni è direttore del conservatorio di Torino l'insistenza soprattutto del figlio d'Antonio che lo va a trovare più volte a Sanremo dove Alfano si ritira per comporre e dove si ritirerà poi quando finirà il suo lavoro il suo impegno nel conservatorio alla fine cede cede e accetta un contratto che prevede 30.000 lire prevede un tot per ogni mese di aspettativa che lui si dovrà prendere come direttore del conservatorio più il 4% sui futuri incassi dell'opera in realtà comincia a inviare e la cosa incredibile noi questa facciamo veramente fatica a spiegarcela la cosa incredibile che Casa Ricordi consegna l'editore consegna ad Alfano gli schizzi di Puccini il libretto completo e il canto e piano di quello che Puccini aveva composto non la partitura questo ci fa capire quanto l'orchestrazione fosse ancora nella musica italiana dell'epoca ancora un aspetto secondario oggi non potrebbe mai accadere che uno faccia un completamento di un'opera senza aver chiaro come è orchestrata dalla prima battuta all'ultima perché l'orchestrazione la musica stessa è scritta in relazione al fatto che sarà eseguita da quello o da quell'altro strumento no Alfano lavora utilizza quello che riesce di questi schizzi in particolare in cinque punti comincia a mandare le prime pagine scritte subito gli editori ma si capisce che dietro c'è Toscanini cominciano a dire c'è qualcosa che non va c'è troppa roba che è tua e che non viene dagli schizzi non è bella l'orchestrazione lui non sa nemmeno come fosse non sapeva nemmeno come fosse quella di Puccini comincia un periodo di conflitto che induce Alfano a un certo punto a dire sentite io veramente mi ritirerei dalla cosa ho lavori miei da portare avanti in più aveva un fastidio agli occhi che si era aggravato rendeva ancora più faticoso proprio fisicamente il lavoro a quel punto nuovo contratto nuovo accordo le 30.000 lire diventano 50.000 lire i mesi di aspettativa però Alfano accetta da un lato di rinunciare a quel percentuale sui futuri diritti e credo che quello sia stato l'errore più grande della sua vita perché probabilmente per generazioni fino a non so fino a quando sarebbero state a posto ma anche lì accetta questa clausola per cui non farà alcuna dichiarazione relativamente al proprio lavoro sulla Turandot che era stata posta perché invece precedentemente lui aveva scritto che stava facendo questo lavoro che era un lavoro faticoso insomma era stato pesantemente riguardito da ricordi che aveva mandato un redarguito ho detto da ricordi che aveva mandato un telegramma molto duro nei suoi confronti invitandolo a lavorare in silenzio alcune cose quindi vengono tagliate subito e di queste Alfano è perfettamente a conoscenza e tra questi tagli c'è il quinto dei cinque schizzi che Alfano aveva utilizzato di Puccini che quindi con quel taglio diventeranno quattro ignaro del fatto che a quel taglio se ne aggiungeranno tutte le altre 109 battute da parte di Toscanini poi succede quello che vi ho raccontato qual è la differenza per chi ascoltasse i due Alfani l'Alfano vero diciamo così e l'Alfano tagliato da Toscanini dal punto di vista drammatico in realtà non ce n'è differenza il problema della versione Alfano è il problema di quella meccanicità di cui si parlava morte trenodia morte di liu trenodia funebre duetto bacio sgelamento trionfo certamente nella versione originaria nella versione non tagliata questi episodi sono c'è un più una c'è maggiore transizione tra uno step e l'altro di questo percorso che nella versione tradizionale quella che si fa nel 90 ai noi nel 95% forse di più dei casi in cui Turandotte viene rappresentata è veramente molto meccanica e io di questo vorrei fare un esempio di quello che sto dicendo facendo ascoltare un piccolo segmento purtroppo non possiamo ascoltarlo tutto però la versione dell'alfano vero la si trova facilmente su YouTube quindi chiunque può ascoltarla nella sua interezza vorrei fare ascoltare soltanto un segmento che è la fine diciamo quello che per comodità chiamiamo duetto in realtà non è un duetto un dialogo tra Calaf e Turandotte dopo che lui è morta e il passaggio di questo da questo momento alla scena che da privata e di loro due diventa collettivi quando viene convocata la corte e lei dice al padre conosco il nome dello straniero il suo nome è amore eccetera e anche questo piccolo ascolto credo che dia un'idea del fatto che è meno meccanico dell'alfano che si fa di solito è un po' più fluido è un po' più un divenire di una cosa nell'altra poi da qui c'è tutta la scena anche in realtà in questa scena c'è un altro taglio di Toscanini però ecco ci siamo fatti un'idea in realtà trovo che per esempio questo taglio di questo intervento corale fa solo bene ecco perché tutto sommato non ha alcun tipo di funzionalità non è musica di Puccini è un proprio intervento di Alfano e non ha una vera ragione d'essere drammatica a giustificarlo in altri casi ripeto è un po' brutale diciamo l'intervento toscaniniano anche se ormai ci sembra normale perché l'abbiamo sentito mille volte e quindi ci viene da pensare che è giusto così Berio naturalmente lavora in condizioni diverse non ha scadenze ravvicinate non c'è l'editore che pressa perché l'ultima opera di Puccini deve andare in scena tutto il mondo lo attende con ansia soprattutto a modo di affrontare la questione da un punto di vista anche drammatico dal punto di vista musicale la sua scelta è molto chiara utilizzo più che posso gli schizzi di Puccini non è che si tratta di fare una classifica però se quattro schizzi sono utilizzati in Alfano undici sono utilizzati nella partitura di Berio il quale aggiunge oltre agli undici schizzi utilizza materiali tratti dal primo atto utilizza e questo è fondamentale per la drammaturgia utilizza il tema della romanza di Liu il trucco di J.S. Cinta perché ci dice quanto sia importante la memoria di Liu nel momento in cui i due diciamo così si cominciano a guardare negli occhi e poi utilizza tre citazioni esterne una è l'incipit della settima sinfonia di Mahler per la ragione che c'è una somiglianza dal punto di vista intervallare tra l'incipit di Turandotte e l'incipit di quella sinfonia di Mahler che è impressionante il secondo è una citazione dai guru e leader di Schoenberg è di Seberium ma è una citazione di tre note è proprio un breve omaggio all'europeismo di Cuccini il terzo naturalmente è l'accordo di Tristano che era stato appunto prefigurato in quello schizzo che appunto abbiamo ancora di fronte agli occhi la drammaturgia è tesa quindi andare verso sì un lieto fine i due si guardano negli occhi lei in qualche modo lo sgelamento di lei avviene ma avviene come se avendo tutti e due chiare davanti gli occhi la figura di Liu e del sacrificio che lei ha compiuto e quindi è un finale che è tutto tranne che festoso alcuni colleghi parlarono di un finale siamo in Cina quindi il teatro aperto che non è non ha né il lieto fine né il finale tragico in omaggio alla tradizione del teatro orientale che appunto ha sempre un finale aperto no il finale è il finale è che i due si amano vivranno insieme si sposeranno avranno tanti bambini ma sempre con la memoria della figura di Liu e quindi che è anche una memoria dolorosa e quindi un finale che va in estinzione e Berio usa la tecnica che è sempre usato quando ha lavorato su musiche di altri fossero Mahler fosse Corubini fosse Schubert fossero i Beatles Berio prende degli oggetti in questo completamento non scrive una nota sua Berio prende materiale quello che abbiamo detto chiaro viene un po' trasformato nelle sue mani e quindi è molto chiaro ascoltandolo lo stacco proprio stilistico che c'è tra la musica di Puccini e la musica di Berio che pure è fatta solo di note di Puccini salvo le tre brevi citazioni che ho detto nella direzione di un finale che vuole essere una una sorta di lento come memoria del tutto un finale che è tutto fuorché trionfale è accennato appena accennato l'inno imperiale e ci sono due passi solo strumentali uno è la scena del bacio cioè il bacio comincia un ampio interludio strumentale che è come se ripercorresse tutte le tappe che hanno portato i due fino a quel momento piena di citazioni da momenti precedenti dell'opera e poi alla fine dopo che lei dice il suo nome è amore non c'è il coro non c'è nient'altro c'è questo questo non mi viene la parola quella che si donna nel cinema esatto questa dissolvenza scusate ed è forse su questa ma vedo che i tempi sono almeno questa vorrei ascoltarla con voi sarebbero fare tante osservazioni ma vedo che il tempo è volato solo vorrei concludere con una notazione sul finale quando si fa l'opera fin dove Puccini l'ha scritta certamente è una scelta plausibile perché è evidente che questa possibilità presentano tutte dei difetti o dei limiti è molto curioso questo chiasmo per cui il linguaggio diciamo tradizionale d'Alfano va nella direzione è plausibile soltanto nella direzione di una narrazione completamente fiabesca che però a quell'epoca è una drammaturgia moderna mentre invece un linguaggio moderno di cui abbiamo scoltato un piccolo frammento come quello di Berio va nella direzione di una drammaturgia invece tradizionale cioè meno drammatica e forse anche questo strano chiasmo che giustifica e rende comunque legittima in ogni caso la scelta di fare Turandot dove Puccini era scritta posto però che ci sono due problemi il primo è quello narratologico delle fiabe che esigono un finale e così facendo un finale non c'è il secondo grosso difetto è che togliendo tutto ciò che viene dopo la morte di Liu viene via gran parte del peso drammatico e musicale del personaggio di Turandot cioè quel dissidio per cui mettere in rilievo l'una fa sbiadire l'altra e mettere in rilievo l'altra fa sbiadire l'una di cui parlavamo prima che era certamente un aspetto importante nel motivare e giustificare i dubbi di Puccini nei confronti di questo finale certamente dicevo con questa soluzione il risultato è che Turandot diventa di gran lunga un personaggio minore un personaggio che ha soltanto un grande assolo a metà del secondo atto punto molto più importante molto più peso a maggior ragione per il fatto che il sipario si chiude sulla morte di lei assume in questo caso l'importanza del personaggio di Liu e questo ci porterebbe a dire che in realtà l'ultimo passo l'ultimo capitolo della lunga meravigliosa storia del teatro musicale di Puccini si chiude con la morte dell'ultima delle sue grandi eroine naturalmente questa è una considerazione credo che sia entrambe quella del mancato finale quella dell'eccessivo peso di Liu diciamo peso drammatico all'interno del lavoro di Liu in questa formulazione credo che siano oggettive questo non significa che non abbia piena plausibilità il fatto di scegliere questa soluzione forse come il meno peggio in ogni caso vostra sarà la scelta e vi ringrazio per l'attenzione grazie Enrico Girardi grazie la cosa importante nell'affrontare l'argomento era farlo con lucidità e con mettendo in chiaro la problematicità di una scelta che fino a ieri ci poteva sembrare scontata e per cui la scelta scontata non è ecco l'esito come giustamente ha detto Enrico Girardi lo vedremo alla fine dello spettacolo vivendo il teatro in vero dall'inizio alla fine e chissà cosa ci riserverà la realizzazione registica oltre che l'esecuzione musicale alla fine quindi lo ringrazio perché davvero ha saputo ripercorrere la storia interessante di questi finali che si sono rincorsi ce ne sono peraltro altri alcuni hanno visto la luce nel senso che sono stati eseguiti e rappresentati altri no sì ce ne sono in realtà tre uno di cui uno solo è stato rappresentato che è quello di un compositore cinese per l'inaugurazione del National Center of Performing Arts di Pechino una musicologa americana ha lavorato dieci anni sugli schizzi il frutto del suo lavoro che è un altro finale in realtà non è mai stato rappresentato e poi il nostro Roberto De Simone aveva pensato un suo finale e l'intenzione era di rappresentarlo a Bari nel 2009 gli fu impedito di farlo ragioni diciamo l'editore non diede questo non concesse questo permesso per cui in realtà quella scelta di Bari l'epetuzione di Bari di fare la Torandò fin dove Puccini l'aveva scritto non fu una scelta ma era stata l'inevitabile conseguenza del mancato accordo diciamo per cui anche questo resta un finale di cui sì esiste una partitura ma non abbiamo ancora avuto il piacere o il dispiacere di ascoltarlo nel nostro caso invece è una scelta ponderata e meditata proprio alla luce delle cose che sono state dette questa sera è una scelta che si è la scelta di Bari